Presidente Leone è fatta! Finalmente è fatta! È fatta, è fatta! Siamo contenti, abbiamo raggiunto l'obiettivo, volevamo tornare rapidamente in A1 e ci siamo riusciti. Adesso dobbiamo fare una bella squadra per restarci bene in A1 e ripuntare un'altra volta allo scudetto che già abbiamo vinto qualche anno fa. Ovviamente è scattata la festa, paura di perdere qualche pezzo grosso per la prossima stagione, tipo Giulia Cuzzupè? No, no, assolutamente no, sicuramente Giulia resterà con noi, anzi speriamo di poter riprendere le nostre grandi che giocano altrove, in Italia o all'estero. Allora, Serie A1, ultima battuta, prossimo anno lo scudetto? No, prossimo anno no, però il prossimo anno il massimo che ci possiamo prevedere è i play-off. Grazie.